Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di due prodotti di Corsair per il gaming. Uno è il mouse Catar Pro XT, il secondo è il tappetino MM700RGB. Due prodotti che sono riservati al gaming e vanno abbinati tra loro. Partiamo dal mouse. Il mouse, come potete vedere, non ha tantissimi pulsanti, cioè non è un mouse da gaming elaborato, ma è un mouse da gaming molto molto semplice, molto leggero, il cui peso si attesta sugli 80 grammi circa, magari qualcosa in meno. Ed ecco il cavo. Infatti, come potete vedere, ha un cavo lunghissimo, che poi vi mostrerò. E quindi non è wireless. Partiamo da questo, dal fatto che il mouse in questione non può essere utilizzato via wireless, quindi non è ricaricabile. Come potete vedere, il cavo non si scollega, quindi è un mouse con cavo. Presenta un LED dove c'è lo scroller, LED che naturalmente può essere personalizzato con il software di Corsair e si può adattare, ovviamente, allo stesso LED utilizzato sulla tastiera, sulle cuffie, sul tappetino e su tutti gli altri componenti di Corsair. Il mouse permette di passare da una configurazione dpi all'altra tramite la pressione di questo tastino e presenta, naturalmente, sulla sinistra i classici tasti per andare avanti e indietro di pagine. La cosa che ho apprezzato maggiormente di questo mouse è il materiale. Io amo i mouse ruvidi. E questo mouse, sì, è liscio, ma presenta anche una superficie ruvida, quindi, diciamo, è semiliscio o semiruvido. Infatti, sulla sinistra, a differenza di altri mouse, non presenta quella classica gomma che col tempo si usura, ma presenta una superficie, diciamo, ruvida, che anche con il sudore non tende a consumarsi, quindi, nel tempo, potete utilizzare sempre il mouse in questo stato. È presente sia sulla destra sia sulla sinistra, come potete vedere. E il dorso è, diciamo, più liscio rispetto ai laterali, ma ha sempre questo effetto ruvido. È presente il logo di Corsair che, purtroppo, non si accende. Infatti, l'unico LED presente è solo lo scroller. E, sinceramente, non capisco perché, però è una decisione, diciamo, dell'azienda e quindi la rispettiamo. Il mouse è, diciamo, di dimensioni abbastanza contenute. Cioè, io che ho una mano abbastanza grande, diciamo, mi trovo anche, diciamo, comodo. Ma non aspettatevi un mouse generoso in termini di impugnatura. Infatti, è un'impugnatura abbastanza compressa, come si dice. Perché il mouse è di piccole dimensioni. Infatti, diciamo, coprite con la vostra mano, come nel mio caso, tutto il mouse. E quindi, diciamo, è un mouse rivolto principalmente a coloro che hanno mani un po' più piccole delle mie. Però, insomma, sul tappetino si muove, che è una bellezza. E anche passando da una configurazione dpi all'altra funziona perfettamente. Quindi, diciamo, è un ottimo mouse per lavoro principalmente, ma anche per il gaming. Non aspettatevi un mouse dalle grandi pretese, ma comunque fa il suo egregio lavoro ad un costo, diciamo, abbastanza contenuto. Passiamo ora al tappetino. Il tappetino è XL, cioè, è abbastanza grande. E quindi, diciamo, è una dimensione che occupa tutta la scrivania. Ora, ve la mostro. Come vedete, è enorme, questo tappetino. Ma la cosa particolare di questo tappetino è questa. Questa qui giù. Che praticamente permette di accendere il tappetino come un albero di Natale. Quindi potete scegliere il tipo di LED. Premendo questo tasto qui, come vedete, cambiate il LED in base alle vostre preferenze. Potete anche associarlo agli altri componenti di Corsair. Inoltre, sono presenti due porte USB. Nel mio caso ho collegato la chiavetta per le cuffie Corsair. Però potete collegare quello che volete. Perché il tappetino va rigorosamente alimentato via USB. Quindi non è wireless. Una volta che avete collegato questo cavo qui dietro, avete due porte USB a disposizione. Io le ho utilizzate per il mouse e per le cuffie. Voi potete utilizzarle per qualsiasi cosa desiderate. Anche tastiere, hard disk, eccetera. Quindi, diciamo, la particolarità di questo tappetino è che oltre al fatto di accendersi, e quindi, insomma, arricchisce la vostra scrivania, permette di collegare delle periferiche. Quindi avete a portata di mano due periferiche. Inoltre, il tappetino, come ho detto, si adatta a mouse, tastiera, cuffie, e così via dicendo, con i LED. Potete regolare il tutto tramite il software di Corsair. Il tappetino è ruvido. Non so se sentite. È abbastanza ruvido. E il mouse si muove sul tappetino, che è una bellezza. Quindi è un tappetino estremamente comodo. Personalmente io preferisco questo tipo di tappetino, quindi mi trovo abbastanza bene, provenendo anche da altri prodotti. Quindi, se siete interessati all'acquisto del mouse e del tappetino, potete trovarli su Amazon, su Corsair, quindi sul sito ufficiale, e presso i principali rivenditori.